Russia, Cina e Iran sono responsabili del massacro siriano. Il premier turco Recep Tayyip Erdogan abbandona i toni della diplomazia e critica gli alleati di Assad. Ankara chiede l'imposizione di una no-fly zone per fermare i raid del regime, ipotesi bloccata dal veto russo-cinese in sede ONU. La Russia appoggia il massacro messo in atto dal regime e difficilmente alza la voce contro la Siria. Mi sono messo in contatto con le autorità russe per dire loro che non dovrebbero stare dalla parte del regime, ma la Russia sostiene Assad così come la Cina. La Turchia ha accolto 90.000 profughi siriani e Ankara si sente isolata nella gestione dell'emergenza. Entro la fine dell'anno, calcola l'ONU, saranno 700.000 i rifugiati siriani accolti nei paesi confinanti. Inoltre l'eccessiva esposizione del governo turco nell'opporsi al regime di Bashar al-Assad ha avuto come unica conseguenza la recrudescenza della guerriglia kurda. Grazie. Grazie.